Alla ricerca della sinistra perduta si può definire così l'iniziativa di alcuni esponenti politici delusi dal sostegno dato a Paolo Frattura alle ultime regionali, una sinistra emarginata dalle scelte spesso impopolari e affaristiche fatte dal governo regionale nella sanità, nelle infrastrutture, dando priorità assoluta alla metropolitana leggera, nel lavoro con tante vertenze aperte e migliaia di lavoratori a rischio, una sinistra tradita dai suoi stessi eletti a Palazzo Moffa come Domenico Ioffredi, Selle e Salvatore Ciocca, comunisti italiani, che di fatto hanno lasciato i rispettivi partiti inventandosi un intergruppo pronti a traslocare nel PD di Paolo Frattura e Michela Fanelli, un PD, quello attuale, che con la sinistra nulla ha in comune, un PD tutto proiettato sulla spartizione di prebende e incarichi a progettisti e collaudatori, amici o parenti e sulla distribuzione di risorse pubbliche con metodi clientelari da vecchia corrente Dorotea della democrazia cristiana con l'aggravante di pericolosi conflitti di interessi che coinvolgono i suoi più importanti rappresentanti istituzionali, un PD che ha riciclato nella catena di comando e nello stesso Consiglio regionale personaggi in cerca d'autore da sempre radicati negli schemi e nelle ideologie della destra. In buona sostanza siamo di fronte a un centro-sinistra che ha calpestato, insieme alle promesse di cambiamento sbandierate in campagna elettorale, anche i valori e gli ideali di solidarietà e difesa dei più deboli che avrebbero dovuto invece caratterizzare un'azione di governo riformista e progressista. Benvengano dunque le denunce e l'azione politica di chi vuole creare una vera alternativa da sinistra a questa classe di governo incapace e affarista che manda a casa i precari, chiude le aziende partecipate ma trova il coraggio di sottoscrivere una transazione per regalare a futura memoria 400 mila euro alla segretaria del PD Michela Fanelli